Va tutto bene, ci sono qua io. Salve, io ho trovato questo gatto. Lui si è fatto male. Era andato? Non lo so. Vuole che lo sopprimiamo? Cosa? Ma no. Sa quanti gatti randaggi ci sono a Londra? Un'epidemia. Ma lui ce l'ha un nome. È Bob. La ferita è purulenta. Capisce? Prende il numero. L'attesa sarà molto lunga. Senta, ho un impegno. Posso lasciarlo qui? Passo a riprenderlo dopo. Le sembra una lavanderia questa? Ok, ok. Buono. Va tutto bene? Tranquillo. È tutto a gusto. Ci sono qua io. Oh, guarda. Un coniglio. No, no, no. Non pensarci neanche. Il coniglio non si mangia. Ok? No, no. No. Grazie.